Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Questo governo sta improvvisando e piante dose in serata ha ribadito che i centri si faranno, verranno consultati gli amministratori locali, però alla fine deve valere la linea del governo. Fermo restando che i flussi migratori sono il vento che non si ferma con le mani, ci sono sempre stati, ci saranno e da dieci anni a questa parte anche la sinistra che governava ha avuto i suoi problemi. Tant'è che il numero di morti maggiori si è avuto proprio nel 2013-2014 quando regnava Enrico Letta, quindi a prescindere da questo devo dire che ci sono dei problemi sicuramente, ci sono dovuti sia agli alleati interni ed esterni, Germania e Francia, sia anche ai paesi di Vigie che era da ragione, Scanzi, come dice Orban, Polonia, quelli sono problemi che bisogna risolvere. Detto questo non ci sono grandi problemi nei centri di rimpatto, Zai ha detto che non era stato informato e si è tantinello e nervosito, però 180 mila sbarchi in tre giorni, anzi in sei mesi e 6 mila in tre giorni sono tanti anche per la gestione del governo. Si sono dimenticati di avvertirlo, si sono messi d'accordo, dopo Zai è tornato in riga. Certo c'è Gianni che dice, ma Gianni fa il suo lavoro, fa il governatore del PD e dice di non volerli lì. Bonaccini ha detto ci devi pensare, guarda le carte, però il compenso, sì, della Toscana, Bonaccini dell'Emilia e poi c'è però anche Federica che dice quei centri lì sono perfetti, anzi io chiuderei la rutta balcanica. Detto questo, i centri per il rimpatrio che vengono costruiti nuovi sono dei centri che sono funzionali semplicemente a un dispositivo nuovo che la Meloni compatibilmente con la regola del Paese mettendo in atto, che è quello del trattenimento fino a 18 mesi, cioè fino al limite consentito dall'Europa, di quei clandestini che comunque hanno fedi le penali lunghe come un braccio, hanno gente che non può essere soggetta ad asilo politico e si aspetta semplicemente di rimpatriare. Cosa che fanno regolarmente? La Francia, la Germania e il presidente tedesco oggi ha detto che l'Italia è un esempio da seguire e bisogna che ci sia una volontà comune nella ripartizione delle quote. Quindi ha dato ragione alla Meloni. Detto questo non ci vedo l'apocalisse.